Amicizia, edito da PM del Cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, e libro vincitrice della dodicesima edizione del premio Cardinale Michele Giordano. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è tenuta nella Basilica dell'incoronata madre del Buon Consiglio a Capodimonte ed è stata preseduta dall'Arcivescovo di Napoli, Monsignor Domenico Battaglia, che è anche presidente del premio. Giunta la dodicesima edizione, riconoscimento ideato dal vaticanista Francesco Antonio Grana, ha il patrocinio della diocesi di Napoli e dell'ordine dei giornalisti della Campania. Secondo classificato il volume, uccisero anche i bambini di Ares, di Don Paolo e Ritkel Adrianic, terzo posto per il testo Giovanni XXIII e Paolo VI, per i tipi di morcelliana, dello storico Marco Roncalli. Questo libro tenta, direi per la prima volta, di raccontare questi due grandi pontefici del Novecento, a cui dobbiamo tanto, e forse magari in qualche caso anche dimenticati, in modo in simultaneo, in modo intrecciato. Erano due grandi pastori e hanno concepito soprattutto il servizio alla Chiesa, non come un progetto sulle loro persone, ma veramente per tutta la società. Premio speciale per il volume Teologia della Relazione, città nuova di Don Alessandro Gargiulo, docente incaricato di Teologia Trinitaria presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Tommaso, parroco di Maria Santissima del Buon Rimedio del quartiere Scampia e decano dell'Ottavo Decanato dell'Arcidiocese di Napoli. Menzioni speciali per i libri Comunicare l'Invisibile, New Media, di Ciro Biondi, responsabile dell'Ufficio Comunicazione della Caritas Diocesana di Pozzoli, e il Papa del Coraggio e della Fede, ancora di Mimmo Muolo, vaticanista e vice capo della redazione romana di Avvenire. È un libro che ripercorre il pontificato e la vita di Benedetto XVI, Papa del Coraggio e della Fede, nel senso che ha avuto il coraggio di fare qualcosa che i papi per quasi sei secoli, sette secoli non avevano avuto il coraggio mai di fare, cioè di mettersi, per lasciare il posto a qualcuno che avesse più energia e più capacità di lui.